Le associazioni chiedono un aiuto alla Regione, al Governo, la situazione è difficile, c'è anche la questione di questa legge. Ma per quanto riguarda il territorio del cratere, noi stiamo denunciando ormai da anni che questi fondi che effettivamente sono arrivati e sono nelle casse della Regione dal 7 febbraio 2019, siamo arrivati ormai ad oggi, l'unica attività svolta è di qualche mese fa, cioè il bando per la selezione dei confini. Quindi dovendo starci poi un secondo bando, superiamo i tre anni e mezzo e quindi è un grossissimo ritardo, una cosa molto grave, che diciamo in qualche stando la grossa calamità che abbiamo avuto è anche una mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini. E quindi noi per questo non è che chiediamo l'aiuto, ci è dovuto. Siamo dagli ultimi giorni di dicembre in una crisi, è un lockdown di fatto. Purtroppo c'è il mondo del commercio, della ristorazione, del turismo che sta subendo delle restrizioni enormi, non c'è gente in giro. Molti ristoranti stanno decidendo dall'inizio di gennaio di tenere chiusi e a questo si aggiunge una crisi di liquidità dovuto a diversi fattori, al fatto che ad esempio non ancora arrivano alcuni ristori promessi, è una legge regionale che va avanti da gennaio 2021, ad un anno siamo ancora alla mancata messa a terra e oggi stanno creando una crisi di liquidità senza una prospettiva neanche di ristoro, con un lockdown di fatto e rischia di essere insomma un colpo mortale.